Al Palazzo di Giustizia sono arrivati anche alcuni parlamentari 5 Stelle, pronti a far propria la battaglia delle famiglie torresi. A me questa vicenda mi provoca una sofferenza, quindi non posso non essere participe e interessarmi del problema. Ho avuto un po' di documentazione dai comitati, adesso la stiamo studiando, ho coinvolto anche altri parlamentari 5 Stelle, Sergio Puglia, senatore, Luigi Di Maio, vogliamo studiare bene il problema. Vogliamo far luce su una vicenda che oggi ancora deve avere luce, stiamo qua anche per questo, per dare proprio solidarietà da un lato ma dall'altro lato dare ancora più visibilità a questo problema.